Cosa è successo qui? Quella cosa? Aveva uno sguardo così freddo. Senza anima. Noi siamo tutti spacciati. Spacciati. Sono dieci volte più veloci. Dieci volte più forti di noi. Non sto bene Robert. Non sto per niente bene. Ti prego ti sconturo aiutami. C'è una taglia su di lui no? Basterà catturarlo, portarlo alle guardie e la taglia sarà nostra. Non vuoi capire quando dirlo? Ovvero... In che due mi sei cascato? Ce ne dobbiamo andare da qui! Non se ne parla! Torian, questa è la nostra casa! Stiamo cercando il signor Robert Keller. C'era detto che potevamo trovarlo qui. Ci serve l'aiuto di madame Adelaide. Io so chi è lei. Lo sa? Mio padre mi ha parlato spesso di voi. Robert Keller. Scienziato e alchimista. Focus! Sei un uomo del re. Sei lasciato mischiare in un turbine di corruzione tra di me. Visto che mi conosce dovrebbe avere paura di me. Mio fratello non è tornato stanotte. Temo gli sia successo qualcosa di terribile. Deve aiutarmi a ritrovarlo. Le darò una mano. Ma sappia che questo non era in programma. Io non condanno mio fratello per quello che hanno fatto a me! È grave. Avevo... Creare qualcosa che potesse curare tutte le malattie incurabili. Ho fallito. Risolvi la vita e poi cerchi di ucciderlo. Questa sera deve finire una volta per tutte. Dobbiamo in ora! V attemptedravильно loacionato imensiare. Questa è bello. Questa dorma. Vai... Ch smile. Sai... Che! Chi! Grazie.